Quale terra non è infiltrata? Le mafie sono arrivate ovunque, in Italia, anche certe volte nel cuore dello Stato, oltre i confini. Il messaggio della Meari che gira per tantissimi chilometri nelle mine Romagne è molto bello, perché innanzitutto è un messaggio di forza, della macchina di un giornalista coraggioso, quindi la volontà di denuncia, di raccontare i fatti e arrivare ovunque, anche in territori che sono distanti fisicamente dal luogo dove Giancarlo ha operato, ma come ricordavamo prima con le mafie tentacolari che ormai sono economicamente e politicamente forse anche più forti al centro nord rispetto al Mezzogiorno.